Buonasera a tutti, io sono Erika Perucchietti, caporedattore della Uno Editori e sono molto contenta di avere qui con noi l'amico Giulietto Chiesa perché abbiamo già iniziato una proficua collaborazione qualche anno fa con lui, è stato un autore che abbiamo o personalmente molto voluto, abbiamo già pubblicato Caos Globale con lui e adesso ci ritroviamo con un libro particolare che potrebbe essere quasi pensato come un instant book ma non lo è perché cade proprio a fagiolo nel trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, un saggio che nonostante possa sembrare snello invece non lo è nel senso che tra l'altro ha anche una prefazione quindi un contributo di un altro nostro comune amico Diego Fusaro, ha l'introduzione di Tretiakov, ha una nota finale di Paul Craig Roberts e come vedrete è molto ricco di dati, di tra virgolette quasi di informazioni che sono andate diciamo perdute, perdute perché voglio iniziare proprio con una citazione, un passo che secondo me rende benissimo il senso non soltanto di questo libro ma di gran parte delle ricerche comuni anche di quelle di Giulietto Chiesa, a pagina 61 del libro Giulietto scrive, il problema che continua a persistere anche oggi mentre scrivo queste righe è che la storia l'hanno scritta i vincitori, essi hanno impresso il loro marchio di fabbrica nelle teste dei loro sudditi e quel marchio rafforzato dai ripetuti successi pratici ottenuti negli ultimi tre secoli di storia si è trasformato in dogma e il dogma è divenuto la base del pensiero unico che nutre anzi avvelena la cultura dell'occidente e non a caso negli ultimi anni si parla sempre di più di propaganda, di manipolazione, di controllo sociale, di ingegneria sociale anche perché come lo stesso Giulietto ha sempre mostrato all'opinione pubblica è come se ci fosse stata anche un'accelerazione degli eventi quindi un'accelerazione della manipolazione del controllo della parte del potere e questa accelerazione avesse avuto come effetto il fatto che sempre più persone hanno iniziato un attimo ad accorgersi di essere un po' come la famosa rana bollita nell'immagine di Chomsky all'interno del pentolone dove l'acqua sta bollendo gradualmente ma questa fiamma a un certo punto ha iniziato ad alzarsi e a portare a ebollizione velocemente il pentolone d'acqua quindi sempre più persone stanno iniziando a rendersi conto di essere manipolate non più gradualmente ma sempre velocemente perché è come se chi, diciamo, con la mano invisibile che manipola la temperatura dell'acqua nel pentolone in qualche modo stesse cercando di velocizzare anche la nostra cottura Giulietto Chiesa non ha bisogno di presentazione lascerei subito la parola a lui poi ci sarà spazio per le vostre domande poi direi che dato che in questo periodo stanno succedendo tantissime cose dall'Ucraina Gate, Russia Gate all'italiana abbiamo anche tutta la questione in Siria, Turchia e i kurdi magari scapperà anche qualche domanda in più dato che lo abbiamo qua e quindi lo possiamo tenere in ostaggio per un po' di tempo grazie a tutti Giulietto Chiesa grazie mille, sono contento, è la prima volta che sono qui quindi sono contento di vedere anche questa vostra iniziativa con cui, come Enrico ha detto, sono in qualche misura ormai pegato perché è già il secondo libro che facciamo quindi mi fa piacere perché penso che ne faremo qualche altro ma io vorrei raccontarvi perché l'ho scritto innanzitutto perché è curioso per me e credo che sia anche per voi io una mattina dell'anno scorso era novembre ragionavo, io di solito le mie cose le creo nel dormiveglia e quella mattina non so perché mi è venuta in mente questa idea quest'anno, l'anno prossimo, era l'ora sarà l'anno del trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino cioè già uno, due, tre, sono già trent'anni e ho detto, accidenti, quest'anno sarà un grande fuoco d'artificio mi è venuta in mente questa cosa faranno un grande numero perché questa è la cosa che è vera credo che sia vera e sarà vera perché l'Europa che noi conosciamo il mondo che noi conosciamo deriva da lì e questo mondo è in crisi ecco la differenza tra il decennale e il ventennale che i primi venti erano il loro trionfo adesso celebrare la caduta del muro di Berlino nel momento in cui l'intero occidente questo è un punto da tenere presente l'intero occidente conosce una crisi che non ha mai conosciuto quindi quest'anno io pensavo sarà un enorme evento e sarà un enorme evento lo useranno in tutti i modi possibili tutte le trombe suoneranno per dirci che tutto va benissimo che non è successo niente che questo è soltanto qualche incidente di percorso e invece sta saltando per aria tutto allora ho detto bisogna che gli eropini la festa e questo è stato lo scopo quindi mi sono alzato e proprio con la mattina ho cominciato a fare il piano io più o meno faccio così cosa mi serve? e mi è venuta in mente un'altra cosa che voglio raccontarvi ma secondo me è interessante raccontarla anche per voi mi è venuta in mente che io quando ero molto più giovane di adesso avevo vent'anni mi iscrisse al partito comunista era il 1960 e la prima cosa che mi capitò iscrivendo al partito comunista mi accolsero allora era una cosa molto c'era un cerimoniale bisognava essere presentarsi no? non era una cosa banale uno si iscriveva era una scelta una scelta di vita e mi diedero subito un bel pacco di materiali da leggere materiali propagandesi e io mi ricordai proprio quella mattina che mi aveva una delle cose che mi aveva colpito di più che avevo letto per prima era un opuscolo propagandistico che era intitolato la posizione del partito comunista italiano verso la repubblica democratica tedesca 1960 il muro non c'era ancora era una descrizione io l'ho lessi saranno state 60 pagine dovessi con grande attenzione e capì che veramente era una cosa importante cioè io non avevo mai visto la politica da vicino arrivavo dal liceo classico ero come dire ero neofita e vedi che il partito comunista formava i suoi quadri fornendogli dei materiali di grande valore io avevo una cultura che era freudiana che era un po' Einstein che era la fisica venivo da lì ma non avevo mai letto delle cose politiche e mi accorgo che quel volumetto di 60 pagine conteneva delle cose che io non sapevo assolutamente era la descrizione della politica della Germania della Russia verso la Germania della politica dei comunisti scritto da gente di grande valore poi scoprì non c'era una firma era tutto anonimo era l'opuscolo del partito comunista sulla questione tedesca tutti quelli che avevano scritto lì erano i professori intellettuali di valore scienziati eccetera eccetera io l'ho lessi e poi fui molto convinto di quello che stavo leggendo era molto bello erano cose nuove poi naturalmente il tempo passa ma dopo tanti anni mi è venuto in mente quello opuscolo e ho detto ah se potessi ritrovarlo là dentro c'era una miniera di informazioni che oggi nessuno conosce 2018 ero certo che nessuno conosceva tutte le cose che io avevo letto in quel libro nel 1960 e andai a cercarlo l'ho trovato l'ho trovato all'istituto Gramsci l'abbiamo cercato a lungo ma c'è ancora da qualche parte hanno conservato tutti i materiali propagandistici del partito e io ho detto beh lo prendo ve lo rileggo e tutto quello che mi ricordavo valeva là dentro c'era la storia che nessuno oggi conosce perché quella citazione che hai fatto è che questo pensiero unico ha cancellato tutto tutte le tracce della storia sono finite e cosa è rimasto? è rimasto come idea che i comunisti sono cattivi che i comunisti hanno aggredito che i comunisti non valgono niente che sono dei residuati bellici della storia soprattutto una cosa fondamentale chi ha vinto la seconda guerra mondiale? l'America questa è la cosa fondamentale di tutto questo discorso sotto tutto questo c'è una sola idea chiave noi abbiamo vinto la guerra e la prima falsificazione è qui come? noi abbiamo vinto la guerra ma chi ha vinto la guerra? se cominci a legge ti accoggi subito e lì io ho cominciato a cercare tutta sta roba qua pian piano ho ricostruito tutto c'è stata la conferenza di Yalta c'è stata quella di Poznam ci sono stati gli accordi c'è stato un momento in cui le potenze vincitrici si erano messe d'accordo che la gestione della Germania occupata ex nazista doveva essere fatta a tre anzi a quattro con la Francia che ci misero dopo tutto questo è stato dimenticato semplicemente e chi è che ha rotto i patti? la Russia? ma neanche per sogno i patti sono stati rotti dall'America e dall'Inghilterra come dire come soggetto servitore in quel momento finiva lo racconto bene finiva l'impero britannico in quel momento e quindi Churchill stava rappresentando affannosamente il tentativo di tenere in piedi l'impero britannico mettere evidente che il nuovo impero era l'America e qui c'è la seconda cosa ma poi chiunque lo leggerà lo vedrà io ho cercato di raccontare tranquillamente che cosa è accaduto basta guardare la cronografia la cronologia che io ho ricostruito con le date per capire che tutto quello che è stato fatto prima del muro di Berlino è stato costruito dall'Occidente contro l'Unione Sovietica per rovesciare il risultato della seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale l'ha vinta l'ha vinta integralmente l'Unione Sovietica non è che l'ha vinta con l'ha vinta l'Unione Sovietica la battaglia di Stalingrado è stata la svolta se non ci fosse stata la battaglia di Stalingrado il mondo sarebbe stato completamente diverso quindi i russi che hanno vinto i tedeschi e Stalingrado hanno vinto la guerra tant'è vero che le truppe sovietiche sono arrivate a Berlino con un mese di anticipo rispetto alle truppe americane un mese prima e quindi c'è da chiedersi come mai Stalin che era così orribile e cattivo si fermò a Berlino Stalin avrebbe potuto benissimo andare fino a Parigi in quel momento non l'avrebbe fermato nessuno le truppe americane stavano ancora poco lontane da Dunkirk allo sbarco in Normandia perché si fermò? perché Stalin mantiene i patti molto semplicemente i patti che erano stati siglati a Yalta e poi a Potsdam Stalin mantiene le regole si era deciso che facciamo insieme facciamo insieme quindi Stalin in quel momento fu assolutamente un dirigente di Stato di grande intelligenza naturalmente non è che voglio dire che lui era così generoso non poteva andare avanti adesso tra un minuto spiego perché perché la Russia era in ginocchio noi abbiamo dimenticato che la guerra è stata combattuta in Russia sul territorio russo ci siamo dimenticati che l'Unione Sovietica in quel momento era certo era la sua economia era in grande sviluppo prima della guerra c'erano i piani quinquennali andavano benissimo la Russia era nel pieno dell'industrializzazione naturalmente industrializzazione forzata violenta repressiva terrorismo di Stato contro la gente tutto quello che volete ma era un paese potente dopodiché arriva la guerra in casa sua e la Russia perde nel corso dei primi mesi 2-3 milioni di uomini e poi ne ha perduto 22 in tutto secondo molte valutazioni quindi la Russia ha avuto la guerra in casa sua perdendo 22 milioni di uomini maschi in gran parte poi la Russia dopo Stalingrado invade tutta l'Europa dell'Est e tutti questi paesi hanno subito la guerra quindi Varsavia Bucharest Budapest Belgrado tutto è stato travolto dalla guerra e quindi tutta la parte che l'Unione Sovietica aveva conquistato fino a Berlino era distrutta e non c'erano capitali ecco una delle regioni per cui Stalin si è fermato perché non aveva la forza economica non militare militarmente poteva andare dove voleva ma sapeva che il retroterra dietro sarebbe stato molto difficile combustibili carburanti raffinerie petrolio strutture industriali treni tutto questo non c'era più e dall'altra parte chi c'era? dall'altra parte c'era l'America che aveva avuto in quegli anni un immenso sviluppo industriale la guerra è stata fatta tutta in Europa mica in America l'America finiva la guerra nel 1945 con la sua economia al massimo piena occupazione piena occupazione un sacco di crediti perché tutte le spese militari lei aveva l'America le aveva anticipate innanzitutto la Gran Bretagna ma tutti i paesi europei quindi l'America era ricchissima dal punto di vista finanziario ricchissima dal punto di vista industriale anzi il problema principale che avevano gli americani era quello di usare questi soldi non dimentichiamo che nel 39 nel 29 30-31 c'era stata la grande depressione quindi gli americani erano terrorizzati di avere una nuova depressione perché se la guerra finiva doveva finire tutta questa dovevano finire i cantieri con i quali costruiamo le navi dovevano finire le fabbriche con cui facciamo i cannoni da portare nella guerra si fermava l'economia americana e quindi loro avevano già fatto i loro calcoli infatti un capitolo del libro è dedicato alla conferenza di Bretton Woods ecco un altro punto importante che tutti si sono dimenticati nel 44 quando ancora non c'era stato Stalingrado ma la guerra comunque non andava bene per i tedeschi l'America convocò a Bretton Woods una grande conferenza in cui riunì tutto l'Occidente e anche un po' di Oriente e disse adesso noi stabiliamo le nuove regole del mercato mondiale e guarda caso tutta la struttura economica industriale finanziaria del mondo attuale è stata costruita a Bretton Woods il fondo monetario internazionale l'hanno fatto in quel momento la banca mondiale l'hanno fatto in quel momento il GATT l'hanno impostato il General Agreement for Trade eccetera eccetera l'hanno impostato in quel momento cioè hanno costruito un nuovo sistema che prevedeva il dollaro come moneta mondiale prima che finisse la guerra prima molto prima quindi capite il grande stacco e quindi adesso dico poche parole poi smetto di parlare così sento magari le vostre domande il grande stacco avviene quando muore Roosevelt subito dopo Yalta ecco qua un attimo ti interrompo nel senso che una parte molto interessante a proposito della storia che viene alla fine scritta riscritta dai vincitori e qua davvero soprattutto negli ultimi anni stiamo raggiungendo delle vette quasi orwelliane da Miniver a proposito di riscrizione del passato molto interessante come Roosevelt vedeva Stalin e poi come invece Truman lo vedrà e quindi è un qualcosa che secondo me chi non è addentro non sa è anche utile per capire come gli Stati Uniti trattarono la Russia dato che comunque Churchill non aveva questa grande stima per Stalin mentre invece Roosevelt si si esatto infatti si vide a Yalta durante la conferenza di Yalta che avviene tre mesi quattro mesi prima della fine della guerra della conquista di Berlino il rapporto tra Roosevelt e Stalin era migliore del rapporto tra Roosevelt e Churchill e questo è un fatto reale poi si è saputo dalla memorialistica successiva che Roosevelt aveva una grande stima dei russi e della Russia non è che fosse un socialista intendiamoci però riteneva che fosse un grande popolo lui aveva l'idea che di fronte c'era un grande popolo secondo me aveva ragione poi Stalin Roosevelt improvvisamente muore e viene sostituito in tutta fretta per la verità da Truman e Truman rappresenta un'altra parte dell'America e qui si aprirebbe un capitolo molto lungo che io qui riverbero nel senso che l'America è stata uno dei finanziatori del nazismo molto semplice ci sono le prove provate io qui cito i documenti quindi non c'è poco da scappare subito dopo la guerra quando ancora Roosevelt era presidente e durante quei pochi mesi la magistratura americana individuò addirittura 1200 se non va errato banche americane che avevano finanziato l'industria militare tedesca e furono messi sotto processo poi naturalmente il processo non ci fu quindi ci sono possenti responsabilità politiche degli Stati uniti d'America nella nascita e crescita del nazismo se non ci fosse stato l'aiuto americano Hitler non sarebbe stato finanziato nei momenti cruciali Krupp grande industriale tedesco fu tenuto in piedi dalle banche americane e tra l'altro c'è un personaggio chiave di tutta questa storia che si chiama Allen Dals Allen Dals e il suo fratello come si chiama insomma i due fratelli Dals il fratello diventò segretario di Stato Allen Dals diventò capo della CIA e capo della CIA significò che per esempio Allen Dals questa cosa qui è un capitolo intero cosa fecero quando capirono che la Russia aveva vinto e che bisognava sconfiggerla dopo la guerra decisero che bisognava usare i nazisti contro la Russia e quindi per esempio notizia quasi sconosciuta 20.000 capi nazisti furono prelevati segretamente e trasferiti negli Stati Uniti segretamente perché i russi li cercavano nella Germania e loro li presero li nascosero li portarono l'operazione Graffetti la troverete qui quindi capite allora la storia comincia a assumere una caratteristica un po' diversa allora succede che succede che ne è della denazificazione della Germania che era scritta negli accordi di Alta ed era scritta negli accordi di Posto la denazificazione finisce gran parte della Wehrmacht che viene costruita dopo con Adenauer è fatta di capi nazisti i comandi militari della Germania federale sono nazisti i servizi segreti degli Stati Uniti d'America costruiti da Allen sono pieni di nazisti nomi cognomi io li metto tutti ed erano tutti in quello puscolo del 1960 prima del muro quindi divertentissimo ricostruire la storia alla luce di quello che già si sapeva allora e che adesso noi non sappiamo più nulla nessuno sa niente di tutto questo la descrizione di quello che vi sto dicendo adesso è fuori completamente dalla mente di 60 milioni di italiani capite che cosa vuol dire lo uso ho usato questo libro per fare semplicemente una dimostrazione di come la storia è stata rovesciata all'elicotrario e veniamo al muro specificamente come nasce il muro il muro nasce come una inevitabile decisione perché loro a un certo punto e qui ci sono anche tutte le date le potete vedere a un certo punto l'Occidente cioè Stati Uniti Gran Bretagna decidono che tutto il potenziale economico deve essere messo in Germania violando gli accordi perché negli accordi c'era scritto che la Germania non doveva essere ricostruita industrialmente per impedire di diventare nuovamente un pericolo pubblico per tutti e invece praticamente gli Stati Uniti cambiano e dicono adesso noi finanziamo la Germania perché la Germania deve diventare il motore della ricostruzione di tutta l'Europa e quindi gli danno una valanga di soldi il piano Marshall nasce così che era un prestito tra l'altro loro ci hanno fatto passare l'idea che il piano Marshall fosse un regalo degli Stati Uniti ma neanche per sogno il piano Marshall è stato un prestito che l'Europa tutta l'Europa noi compresi ma noi non eravamo neanche vincitori abbiamo dovuto pagare quindi loro cambiano completamente il terreno che cosa fanno e questo è l'episodio cruciale che spiega il muro loro a un certo punto unilateralmente violando tutti gli accordi che avevano con l'Unione Sovietica rivalutano il marco tedesco unilateralmente in pochi giorni decidono all'improvviso naturalmente i soldi erano già stati stampati negli Stati Uniti con sei mesi di anticipo quindi la lealtà lasciamo perdere ma comunque in pochi giorni loro decidono improvvisamente che il marco della Repubblica Federale di Germania che è appena stata ricostituita in violazione degli accordi il marco varrà cinque volte di più del marco dall'altra parte allora immaginare di trovarmi in una città supponiamo Roma divisa in due metà della popolazione di Roma vive con un'economia X l'altra metà vive con un'economia moltiplicata 4,5 volte cosa succede? i salari della Repubblica Occidentale valgono 4 volte e mezzo i salari della Repubblica dell'Est ma nell'Est c'era il socialismo per cui tutte le merci venivano amministrate diciamo dal punto di vista socialista quindi i generi di consumo valevano 4 volte meno e quindi tutta la Germania dell'Ovest tutta la Germania tutta Berlino Ovest andava a comprare da mangiare a Est e pagava un quarto in meno poi se le tornava indietro e quindi il risultato finale è che nello spazio di pochi mesi 200.000 persone vanno dall'Est all'Ovest per guadagnare 4 volte di più cosa succederebbe qui? scusate se tu cambi improvvisamente la moneta violando tutte le regole perché tu sei ricco mentre gli altri non hanno nulla da rispondere perché non avevano i soldi per farlo il risultato finale è che nello spazio di pochi anni sono uscite quasi 2 milioni di persone che cosa poteva fare Stalin in quella situazione o Ulbricht che allora era capo della DDR cosa potevano fare? si arrendevano potevano solo arrendersi lasciamo che le cose scappino tutti dall'altra parte non puoi competere in una situazione del genere non c'era competizione possibile furono messi con le spalle al muro Stalin che fa la figura del cattivo orribile che ha impedito la libertà Stalin lo poteva fare diversamente poteva solo arrendersi va bene d'accordo andate tutti all'altra parte comprateci la Germania democratica e quindi finisce lì non poteva fare diversamente il muro nasce perché gli americani hanno deciso che doveva nascere il muro questa è la vera spiegazione di tutto ed è per questo che io ho messo il punto interrogativo chi ha costruito il muro di Berlino? Stalin Stalin non lo voleva il muro di Berlino non avrebbe voluto fare niente furono costretti a farlo se no si dovevano arrendere e tu ti immagini la situazione dopo aver vinto la guerra dopo aver conquistato e abbattuto il nazismo dopo aver avuto 20 milioni di morti riconosce la sconfitta dal punto di vista economico chi può pretendere una cosa del genere sarebbe stata una cosa assurda e infatti non è avvenuta e hanno tirato sul muro di Berlino ma il muro di Berlino era il muro che dichiarava esplicitamente che tra l'est e l'ovest c'era una differenza di peso economico e questa non la potevi cancellare e loro hanno vinto hanno vinto questa è la storia della vittoria dell'occidente fatta con l'inganno e con il dominio economico mondiale tutto lì allora noi dobbiamo trarre una sola conclusione che se vuoi vincere la grande tensone in questo momento che abbiamo di fronte che ci sta soffocando tutti e bisogna costruire un'alternativa politica per questo se non c'è non si vince perché loro hanno in mano ormai delle ricchezze così gigantesche parlo adesso del presente che non sono confrontabili con nessuna forza reale che possa combattere se non con quella degli uomini organizzati finché viviamo finché abbiamo ancora un cervello funzionante finché abbiamo una nostra autonomia intellettuale noi siamo una forza ci manca l'organizzazione e questa è quella che bisogna creare quindi buona fortuna dopo la lettura di questo libro che non è un libro divertente da legge se lo guardi fin in fondo misura il percorso che loro hanno fatto per dominarci e la nostra incapacità di difenderci quindi è un come dire è un preavviso di battaglia difficile molto difficile per il futuro di tutti noi grazie tu avevi previsto che ci sarebbe stato un gran baccanale nelle celebrazioni della caduta del muro che ci sarà questo gran baccanale e oltre a riscrivere la storia il metodo che ha il potere per perpetuare questo storytelling e anche la propaganda pensiamo ad esempio a Hollywood se noi andiamo al cinema e la maggior parte dei film sono americani abbiamo questa divisione netta buoni cattivi americani buoni e i russi cattivi eh beh sì certo questo è diciamo quello che io ho raccontato in termini storici si è trasformato in un'immensa macchina di dominio ma è cominciato allora cioè quando il primo capitolo ich bin berliner io sono un berlinese Kennedy allora va sul muro di Berlino e dice dice un decalogo praticamente noi con loro non possiamo avere nulla a che fare loro sono i nemici loro sono i nemici della libertà del progresso eccetera eccetera noi siamo di qui quelli che stanno di qui sono la libertà di là c'è solo nero di là c'è solo pericolo quindi costruiscono un'intera gigantesca macchina del controllo e la CIA e tutte le strutture e tutta l'economia cioè il piano Marshall per dire una cosa il piano Marshall fu un grande piano economico per distribuire la ricchezza e gli investimenti sui paesi europei ma un pezzo importante del piano Marshall fu dedicato fin da allora al controllo delle menti loro comprarono tutti i professori universitari di Francia Italia loro istruirono sistematicamente tutti i gruppi dirigenti costruirono i gruppi militari a sua volta intelligenti in qualche misura costruirono una struttura di comando dalla quale noi non ci siamo più liberati perché l'intero sistema della comunicazione fu nelle loro mani cioè loro non è che conquistarono solo la Germania conquistarono tutta l'Europa e noi continuiamo da allora abbiamo cominciato a pensare americano hollywood hollywood è più potente di qualunque di qualunque sistema diciamo informativo verbale anche questa è una cosa che questo è un lungo discorso erica lo sa la neolingua la neolingua l'hanno costruita la neolingua è quella degli occhi io per esempio mi sono fatto in tutti questi anni di giornalismo ho scelto tre libri cruciali che sono stati per me per capire che cosa è accaduto uno dei quali è un libro di uno che non era niente affatto di sinistra si chiamava Giovanni Sartori che scrisse il libro Homo Videns bisognerebbe ripubblicarlo tutto intero in cui spiegò che l'Homo Videns cioè l'uomo che vede non è uguale all'Homo Legens è un'altra è una mutazione antropologica quindi loro ci hanno mutato antropologicamente noi ce ne siamo accorti e che cosa consiste consiste nel fatto fisiologico che gli occhi sono molto più importanti della lingua perché l'immagine contiene una enorme quantità di significati gran parte dei quali non sono decifrabili questo l'hanno scoperto loro l'hanno scoperto loro con la loro conoscenza dei meccanismi umani e fin dagli anni subito dopo la guerra loro hanno applicato in modo massiccio questa questione bisogna costruire un possente sistema di produzione delle immagini contro il quale noi abbiamo noi quando dico noi diciamo la sinistra che eravamo pensavamo oppure l'ultra sinistra che è ancora peggio scusate pensavamo di contrastare tutto questo con la controinformazione una sciocchezza non si può contrastare l'immagine in movimento con la controinformazione scritta o parlata l'immagine in movimento è enormemente più potente per molte ragioni convergenti primo perché l'immagine contiene un sacco di cose che passano nel nostro cervello senza il nostro controllo secondo perché l'immagine ha emozioni mentre la parola scritta è certo che ne ha di emozioni ma ti costringe a rileggere due o tre volte la riga se non hai capito lì non puoi rileggere perché un quadro non lo puoi sintetizzare il quadro è composto del centro della periferia della cornice eccetera eccetera e lì dentro ci sono tutta una serie di cose che sfuggono il tuo controllo cosciente per esempio e da qui tutta l'informazione subliminale che passa attraverso cento e un meccanismi che se non li sai vedere sei un analfabeta senza volere faccio un esempio non so faccio solo un esempio perché voi capiate cosa sto dicendo se voi vi ricordate il grande film Independence Day è un film di fantascienza che diavolo vuoi cosa c'entra con la politica niente però tu guardi Independence Day se vi capita andate vi divertirete se guardate questi dettagli ci sono c'è l'America che salva il mondo ma sempre poi gli alieni arrivano sempre in America gli alieni arrivano sempre in America l'America salva il mondo ma la cosa divertente è che tutto quel film è pieno di bandiere americane tu lo le vedi ma quando i protagonisti del film si muovono sullo schermo sullo sfondo di un muro magari di un muro diroccato c'è la bandiera americana poi arrivano proprio il 4 luglio se non sbaglio ovviamente e quindi allora dici non serve come fai a contrastare questa cosa qua non la puoi contrastare perché ti entra dentro ti abitua all'idea che i dominatori sono loro e che salveranno loro il mondo siano gli alieni siano i comunisti non ha nessuna importanza loro sono i salvatori quelli che sono nel giusto poi c'è un'altra cosa che noi avremmo dovuto imparare e non abbiamo ancora imparato neanche adesso venirebbe a dirlo a Beppe Grillo è che noi non possiamo fare una controinformazione contro la pubblicità noi abbiamo le nostre televisioni sette nel caso specifico nazionali che ogni giorno fanno la propaganda del consumismo ogni giorno ti presentano una vita totalmente falsa non parzialmente gli dici vabbè l'informazione può essere mescolata vero e falso mescolata insieme diciamo così questo avviene tutti i giorni nell'informazione scritta ma tu come fai a contrastare la pubblicità che occupa due terzi di tutto ciò che voi che noi tutti vediamo tutti i giorni lì c'è una quantità di ideologia che si può tagliare col coltello l'automobile le strade gli ambienti la cucina la famiglia dove c'è papà e la mamma che mangiano i biscottini insieme tutti felici tutti felici perché nella pubblicità non si può essere infelici bisogna essere per forza di cose divertenti ma voi non capite la potenza evocativa di queste immagini queste immagini ci abituano a pensare come loro vogliono che noi pensiamo non è che solo ci vendono i prodotti ma ci danno un'immagine della nostra esistenza che non corrisponde alla verità pensate un po' è una cosa impressionante tu parlavi prima che la gente ormai comincia a capire perché questo sta avvenendo in forme così violente che hanno perduto un po' il controllo e quindi sta accadendo quella che io definisco ma anche noi definiamo una dissonanza cognitiva che succede che siccome l'accelerazione avvia un conto è che se tu lo dai in dose omeopatiche uno si abitua infatti hanno abituato l'Occidente ci hanno abituato tutti gli americani sono già tutti lobotomizzati fino in fondo ci hanno abituato a questo schema interpretativo della realtà che ci è entrato in testa noi pensiamo così pensiamo figuratemi che cosa pensano gli africani quando vedono sul telefonino la nostra vita loro non lo sanno che la nostra vita non è come si vede in televisione ma la guardano tutti i giorni tutti e tutte le giovani generazioni guardano lì e quindi sognano di vivere come noi non viviamo ma loro credono che noi viviamo quindi questo mostruoso meccanismo è tale che sta modificando il cervello della gente e quindi noi abbiamo continuato a pensare che noi avremmo potuto contrastare la potenza del loro messaggio attraverso le parole attraverso la convinzione razionale mentre il 99% di ciò che milioni di persone ingurgitano tutti i giorni non ha nulla di razionare non è contestabile non c'è una controinformazione pubblicitaria c'è solo la loro e la loro crea un pensiero di forme che è quello in cui viviamo cioè il materialismo puro brutale dei consumi punto e basta noi siamo stati trasformati antropologicamente in consumatori non siamo più cittadini non abbiamo più altro diritto che quello di pretendere di avere dei buoni prodotti che loro ci propinano questa è un po' la spiegazione di tutto il dominio è questo adesso e noi dobbiamo combattere per smantellarlo sul posto che sia ancora possibile sul posto che sia ancora possibile tu pensi che lo sia? penso che per smantellare questa roba qua ci vuole una grande rivolta popolare io questo penso lo dico con molta con molta franchezza credo che non ci sia altra forma bisogna semplicemente trovare tanto perché anche qui cogliamo l'occasione per parlare di questo se vogliamo un partito politico tradizionale non è più possibile ricostruirlo noi abbiamo vissuto nel ventesimo secolo io come vi ho detto ho vissuto nel ventesimo secolo come alcuni di voi là era un altro tipo di politica c'erano le masse popolari non c'era la televisione le masse popolari si vedevano si incontravano nelle piazze il popolo aveva una forma di comunicazione si era organizzato in classi o meglio era organizzato in classi si è organizzato in partiti che rappresentavano gli interessi delle classi questa era una forma di democrazia molto difficile perché era un combattimento ma era comunque una grande forma di partecipazione popolare alla politica io l'ho vissuta l'ho vissuta l'ho vista quindi so che esiste questa cosa ma da un certo momento in avanti e grosso modo questo ha una data di inizio anni 70 negli anni 70 c'è il cambio arriva la televisione la televisione elimina le piazze elimina i partiti la nuova agora non è più nelle piazze ma è alla televisione i partiti spariscono dalla circolazione non sono più strumenti di comunicazione ma anche per una ragione strutturale noi viviamo a Torino voi vivete a Torino questo era un immenso centro industriale 400.000 persone lavoravano nell'industria c'erano grandi conglomerati dove ogni mattina centinaia di migliaia di persone si alzavano e andavano a lavorare che cosa trovavano trovavano degli uomini uguali la catena di montaggio la fabbrica tutti si riconoscevano come operai avevano l'idea della comunanza di interessi non c'era bisogno di spiegargliela la trovavano in fabbrica quindi quella gente capiva la società perché la società era strutturata in un certo modo società capitalistica si intende ma era strutturata in modo tale che la coscienza dei lavoratori era dimostrata quotidianamente i miei interessi sono i loro interessi io e loro siamo la stessa cosa poi c'erano i nemici ovviamente che stavano altrove ma quelli che stavano lì si riconoscevano che cosa è accaduto nel frattempo nel frattempo è accaduto che le fabbriche sono state chiuse i grandi punti di concentrazione operai sono spariti le classi sociali sono state tagliuzzate l'intervento ideologico dei media che ho detto prima è diventato omogenizzante per cui la gente ha cominciato a pensare beh io sono una partita IVA per esempio e se tu metti in testa la gente che sei una partita IVA non c'hai più nessuna comunanza con nessuno è la tua partita IVA quella che conta chi sono gli altri gli altri sono dei tuoi nemici e quindi passa l'idea che la nuova società è la società della competizione ecco che sparisce un termine il termine cooperazione solidarietà fratellanza vengono cancellati e sostituiti dalla competizione la gara chi vince chi è più forte vince chi vince ha ragione e quindi il meccanismo è quello della vittoria del più forte non del più giusto non dell'equilibrio non della pace sociale è la vittoria di chi vuole vincere e vincerà su di te capito cosa è cambiato è cambiato tutto quindi quando io dico che pensare oggi in questa condizione di ricostruire un partito di combattimento capace di opporsi al potere è molto difficile perché non c'è più la classe non ci sono voglio chiarire io non è che non penso che non ci sono più gli operai gli operai ci sono come prima anzi ce ne sono molti di più perché pensate gli operai cinesi che sono un miliardo quindi figuriamo su scala mondiale gli operai ci sono la lotta di classe c'è ancora ma non è più la stessa cosa e quindi se noi parliamo oggi a Torino e andiamo in una piazza a fare un comizio e gli raccontiamo come era fatta la lotta di classe nel ventesimo secolo non ci capisce più nessuno e infatti non ci capisce più nessuno e infatti non ci capisce più non ci capirebbe più nessuno io da tempo ho smesso di farmi queste illusioni bisogna cercare un altro linguaggio bisogna capire con chi stai parlando devi fare una nuova interpretazione della società moderna che non può essere più quella di Carlo Marx perché non ci sono più le classiche che Carlo Marx aveva descritto quindi i marxisti di oggi non possono recitare Carlo Marx perché Carlo Marx non avrebbe mai scritto oggi quello che ha scritto 150 anni fa per esempio quindi questi sono immensi problemi io ho la mia teoria in un altro libro che non ho pubblicato con voi e che ho intitolato invece della catastrofe ho proposto un modello interpretativo che è vicino a voi adesso non è che voglio entrare nel merito di una discussione teorica di questo genere che non è però teorica è molto pratica la Val di Susa io credo che c'è un solo modo per difenderci costruire tante tante Val di Susa che loro non riusciranno a reprimere perché se rimane solo la Val di Susa la reprimono non ci sono ancora riusciti per fortuna perché sono forti ma 60.000 persone e 30 comuni si sono organizzati per reagire e hanno reagito e infatti il buco nella montagna non l'hanno ancora fatto perché loro hanno reagito ma io penso che noi dovremmo pensare quella io la chiamo così difesa del territorio noi dobbiamo ragionare in termini difesa del territorio intendendo però per territorio alcune cose che normalmente non mettiamo nel concetto di territorio la nostra testa è il nostro territorio per esempio e quindi difendere la nostra testa significa difendere i nostri pensieri la nostra natura umana che ha i suoi tempi che non possono essere trasformati nei tempi della tecnologia e invece sta avvenendo proprio questo che la tecnologia sta dominando il nostro tempo ecco difendere il nostro territorio significa difendere il nostro cervello significa difendere il nostro corpo cioè la nostra vita la nostra salute e poi significa difendere il terreno dove lavoriamo la nostra famiglia le nostre abitudini i nostri valori i nostri ricordi tutte cose che non possono essere quantificate dal mercato questo è importante da capire perché noi dobbiamo ragionare in termini totalmente nuovi ma sapere che lì c'è una forza nostra perché se tu riesci a difendere il tuo territorio lo fai qui là in cento posti diventa difficile che ti reprimano ti impediscano perché non avranno la forza di conquistare tutti questi caposaldi bisogna costruirne tanti e sarà una forma di democrazia nuova che potrebbe cambiare il quadro della situazione quindi il ragionamento va fatto ex novo bisogna pensare in termini nuovi altrimenti non troveremo cioè quelli che dicono facciamo il partito il partito non si può fare un partito adesso anche perché non abbiamo una visione adeguata della crisi mondiale loro non ce l'hanno io penso che loro non ce l'abbiano neanche loro i padroni universali non ce l'hanno anche loro sono nei guai anche loro si stanno dividendo anche loro sono inquieti hanno paura di noi anche se noi non abbiamo ancora raggiunto la forza per farli davvero impressionare quindi loro sono inquieti perché la storia dell'uomo ma questo è un altro discorso la storia dell'uomo è arrivata a un punto che non ha precedenti nella storia passata dell'uomo dell'uomo con la U maiuscola noi siamo in una svolta è una transizione tra una società e un'altra società cosa succederà dopo questa transizione è difficile prevedere ma sicuramente noi siamo in uno stacco che non ha precedenti e quindi richiede una teoria nuova allora noi potremo costruire una difesa nei confronti di questo leviatano solo se noi saremmo capaci di fare questo salto intellettuale organizzativo politico morale intellettuale allora potremo ricominciare a combattere a darmi quasi pari diciamo così adesso lascio la parola a voi c'era prima Marco come buonasera ci sono due cose che mi hanno colpito durante tantissime cose volevo chiederle che cosa pensa della reale cioè se lei pensa che Hitler sia veramente morto dove dicono e se invece sia stato tutto un montaggio dei servizi segreti americani e poi avevo una considerazione da fare sul muro come mai il muro di Berlino viene considerato negativo cioè positivo mi è parso di capire la sua visione delle cose cioè Hitler Stalin non poteva fare un'altra cosa mentre negli altri muri di adesso Israele o quelle che vuole fare Trump o quelle che sono stati fatti in altri stati risultano invece delle valutazioni diverse su Hitler no io credo che Hitler è morto i russi hanno le prove le hanno già esposte eh numerose ci sono molti loro arrivarono a Berlino per primi quindi la prima cosa che fecero è andarne a cercare quindi io credo che se Hitler fosse ancora sopravvissuto da qualche parte l'avremmo visto in questo frattempo non è comparso di nuovo quindi non serviva poi del resto non serviva anzi Hitler l'hanno utilizzato in tutti questi anni soprattutto dopo l'11 di settembre come l'emblema del male quindi non dovevano non dovevano farla apparire come Osama Billard sì sì questo è come Goldstein capito questa roba quindi no io credo che sia morto a suo tempo ma è diventato l'emblema del male e adesso tutti i giorni ce lo sentiamo dire sei come Hitler il nuovo Hitler Hitler qui Saddam Hussein era Hitler Gheddafi era Hitler Saddam era Hitler cioè hanno usato questa cosa per per usare una specie di fantoccio diciamo davanti ai nostri occhi quindi su questa domanda io non ho da quello che so probabilmente credo che Hitler sia morto la seconda questione io non è che dico che il muro fu positivo dico nel libro dico il muro è l'emblema della sconfitta è nostra non c'è dubbio della sconfitta del comunismo infatti se voi ci badate bene il crollo del muro di Berlino è stata la fine della sinistra quindi come vedete l'hanno usato perfettamente l'hanno usato quando l'hanno fatto l'hanno usato quando l'hanno abbattuto è un problema dei rapporti io lo chiamo così bisogna guardare e allenarci a guardare la realtà facendo un calcolo dei rapporti di forza cioè uno dirà va bene certo ma perché ha resistito la Russia perché la Russia è un grande paese che è capace è qui un lungo discorso io non posso riassumere tutto io butto lì alcuni capitoli che sarebbe interessante analizzare io per esempio penso che ogni popolo ha uno spirito mi sono convinto di questo e non in termini come dire esoterici è un fatto fisico c'è una bellissima frase che non è mia e che non è che non è come dire esoterica Tesla disse a un certo punto in uno dei suoi lavori rari scrisse se volete capire i segreti più profondi dell'universo dovete ragionare in termini di vibrazioni cioè di frequenze l'ha detto Tesla che era un genio secondo ogni ogni categoria quindi bisogna pigliare queste parole con grande adesso la fisica sta dimostrando esattamente questo noi siamo vibrazioni allora se noi siamo vibrazioni cento milioni di vibrazioni costituiscono lo spirito di un popolo non tutti i popoli hanno lo stesso spirito ci sono dei popoli potenti che hanno lo spirito potente per ragioni storiche nient'altro se un popolo vive su nove fusi orari non può essere un popolo uguale a quello che vive in una città lussemburgo non può avere lo stesso spirito sul posto che ce l'abbia del popolo russo ogni popolo ha il suo spirito ed è una forza perché sono vibrazioni e le vibrazioni sono le stesse che ci sono nella natura nelle piante negli animali le vibrazioni vuol dire che possono interagire possono entrare in rapporto le une con le altre possono ampliarsi possono influenzarsi reciprocamente quindi in questo senso io penso che il mondo dobbiamo ancora scoprirlo non l'abbiamo ancora scoperto quello che noi pensiamo del mondo è molto un'approssimazione molto molto primitiva e quindi c'è tutto questo grande discorso della forza che i popoli possono rappresentare questo per rispondere alla ragione del perché i popoli si difendono anche quando possono sembrare di aver perduto tutto come nel caso della Russia perché noi abbiamo assistito alla colonizzazione della Russia perché nel 1989 tutta la sinistra si è arresa questa è la mia interpretazione dopo l'89 perché parlo da ex comunista dei tempi d'antanio fino a che l'Unione Sovietica è esistita per milioni di persone in Italia e nel mondo altrettanto è stato in qualche misura l'emblema di un'alternativa possibile al capitalismo dominante alla sua forza esisteva un'alternativa era un'alternativa teorica una società fatta in un altro modo non sto a dire buono o cattivo ma la gente la percepiva io me lo ricordo benissimo la gente la percepiva come un respiro una possibilità di fuga un'alternativa politica per milioni di persone lo era nel momento in cui crolla l'Unione Sovietica che pure non era il comunismo ecco questa un'altra questione in Unione Sovietica non c'era il comunismo lo chiamano comunismo socialismo fiorentico socialismo no era socialismo reale si chiama reale e sozialismo ecco quindi però io ci ho vissuto vent'anni la conosco come le mie tasche lo so bene che cos'era il sistema sovietico non era c'era il partito comunista c'era il partito comunista c'era il partito comunista non comunismo è un lungo discorso questo qui signora capisco benissimo che le cose che dico possono anche urtare in qualche misura o comunque sorprendere però ci ragioniamo sopra quando ci fu la rivoluzione d'ottobre per fare un esempio torinese Antonio Gramsci scrissi sull'ordine nuovo celebrò la vittoria della rivoluzione bolcevica a Mosca dicendo il titolo l'ho visto l'ho visto la fotografia del titolo e si è realizzata la rivoluzione contro il capitale capitale con la c maiuscola Gramsci disse la rivoluzione d'ottobre è una rivoluzione che va contro le previsioni di Marx e quindi lui disse è una rivoluzione contro il capitale nel senso capitale di Carlo Marx perché quella rivoluzione avveniva dove non poteva avvenire secondo le previsioni di Marx che aveva detto il socialismo nascerà come transizione al comunismo ma dove nei paesi industrialmente avanzati dove la classe operaia ha assunto di fatto la guida della società cioè i rapporti di produzione non sono più compatibili con i rapporti di forza politici questo era il socialismo e il comunismo in Marx ma la rivoluzione la prima rivoluzione socialista del mondo avviene dove? in un paese dove l'ottanta per cento della popolazione era contadino e analfabeta è questo che avvenuto e tra l'altro se ci pensiamo un minuto tutte le rivoluzioni più da d'ora avvenute tutte sono avvenute in paesi dove Marx non aveva previsto che sarebbe avvenuto la Cina era un paese contadino Cuba era un paese contadino il Vietnam era un paese contadino quindi noi abbiamo assistito a una trasformazione sociale di carattere mondiale oi ragazzi però con questo discorso si sono messi in moto due miliardi di persone due miliardi di persone ma non era comunismo quindi loro sono riusciti a dire che il comunismo è fallito ma non era comunismo e si chiamava capitalismo di stato era un passaggio obbligatorio per giunta anche qui Stalin che cos'è Stalin? questo sarebbe tutto un discorso a fare che cos'è Stalin? Stalin è stato un dittatore sanguinario ha ammazzato un sacco di persone però chi conosce la storia dell'Unione Sovietica sa benissimo che ci fu un momento cruciale in cui lo stalinismo è diventato stalinismo perché? ma perché Stalin che non era uno stupido nell'attenzione con Trotsky e il discorso fu facciamo la rivoluzione nel mondo o la facciamo in Russia e lo scontro avvenne in quegli anni prima della morte di Lenin cominciò prima della morte di Lenin lo scontro fu questo Stalin dopo il fallimento della rivoluzione in Germania Germania era un paese avanzato ma la rivoluzione socialista fallisce in Germania loro si aspettavano anche qualche cosa che avvenisse in Inghilterra non è avvenuto neanche in Inghilterra cioè nei punti alti del capitalismo il capitalismo era in grado benissimo di gestire la sua crisi e quindi non successe niente a quel punto la rivoluzione d'ottobre che era nata come rivoluzione mondiale nella testa di Lenin la rivoluzione d'ottobre era l'inizio della rivoluzione mondiale ma se non ricordiamo questo noi non capiamo nulla di quello che è accaduto e ci fu nel partito comunista bolshevico un grande scontro in cui Trotsky fu sconfitto da Stalin perché Stalin disse adesso dobbiamo essere pratici e realisti la rivoluzione mondiale non ci sarà e quindi noi dobbiamo costruire la rivoluzione in Russia abbiamo lui ritende le risorse la forza per farlo e quindi la scelta fu di fare il socialismo in un solo paese ma fare il socialismo in un solo paese prevalentemente agricolo significava che il partito bolshevico non poteva controllare Stalin doveva liquidare tutta la vecchia guardia e la liquidò dal 34 fino al 40 praticamente ha fatto fuori tutto il comitato centrale del partito quello che aveva fatto la rivoluzione in ottobre e li sostituì con chi? con dei quadri contadini contadini che non avevano nulla a che fare con gli operai con la classe antagonista che in Marx era la classe rivoluzionaria quindi il socialismo reale è stato costruito non dalla classe rivoluzionaria ma dalla classe contadina e del resto scusate ma la rivoluzione se dovessimo ricostruire tutto scopriremo un sacco di cose interessanti com'è che ha vinto la rivoluzione in ottobre? ha vinto con due parole d'ordine che con il socialismo non avevano nulla a che vedere noi vogliamo finire la guerra la pace i soviet degli operai dei contadini vogliono finire la guerra comunque vogliono finire la guerra e questa fu una parola d'ordine straordinariamente potente i contadini mandati a morire dallo zar improvvisamente trovavano una forza che gli diceva basta con la guerra basta siamo disposti a rinunciare anche a pezzi del territorio nazionale fecero la pace di Brest-Litovsky e rinunciarono a un pezzo di Russia quindi primo quella parola d'ordine non socialista ma umana diciamo così umana popolare niente più guerra secondo la terra dei contadini ma la terra dei contadini non è una parola d'ordine socialista la terra dei contadini è una parola d'ordine capitalista significa lo sviluppo dell'economia sulla base del potenziale dei singoli coltivatori della terra il contadino è un singolo quindi la rivoluzione d'ottobre nasce su due parole d'ordine che non erano comuniste che non erano neanche socialiste e vince e vince perché c'era un forte partito polsevico che si impadronisce del potere convincendo o conquistando i soviet che non erano comunisti e socialisti i soviet erano i soviet erano delle assemblee popolari dei contadini operai e soldati questa è la storia allora Stalin finisco questo discorso ma sarebbe molto importante riprendere questa discussione perché questa discussione spiega tutto spiega anche la sconfitta finale perché una società che intraprende con i dolori che questo comportava perché Stalin ha ammazzato centinaia di migliaia di quadri comunisti perché non capivano e lui li faceva fuori e li sostituiva con nuovi aveva stabilito una disciplina ferrea e tutto questo è il discorso sul terrore però nello stesso tempo in qualche misura c'è nella sua figura di dittatore sanguinario c'è una inevitabile di conseguenza storica nel dibattito che ci fu nella socialdemocrazia Plekanov per esempio di cui nessuno sa niente con cui Lenin aveva dei rapporti molto polemici ma anche molto amichevoli Plekanov diceva non si può fare la rivoluzione d'ottobre non si può fare la rivoluzione socialista la Russia non è in grado di reggere la rivoluzione socialista la possiamo vincere come un colpo di stato però non siamo in grado di gestire dopo il passaggio successivo perché ci vuole una grande massa di quadri intelligenti preparati e soprattutto convinti non c'erano questi quadri tant'è vero che Lenin cosa dovete fare dovete apigliare gran parte della prima fase della guerra civile dovete prendere gran parte i funzionalizzaristi come potevano i funzionalizzaristi diventare improvvisamente comunisti ma lui ne aveva bisogno perché non c'era nessuno che sapeva condurre una fabbrica o pochissimi o solo a San Pietroburgo e a Mosca nel resto dell'immensa Russia non c'erano i quadri e in qualche caso sì in qualche caso sì quindi quello che sto cercando di spiegare è che le cose non si possono tagliare con la spada bisogna capire che cosa c'è dietro bisogna capire che cosa è stato se no i personaggi della storia diventano dei fantocci che non hanno un'anima cioè dietro questo c'è della gente che ha pensato ha riflettuto e che aveva degli ideali adesso tutto questo è sparito ed è diventato una specie di comica comunista cioè tutto questo dibattito italiano che fa ridere dove le parole vengono appiccicate senza nessun significato cioè non hanno più senso e quindi servono per fare la propaganda ecco tutto lì era semplicemente perché da questo libro se lo si legge in un certo modo si aprono si apre una coda diciamo così si può aprire una coda di capitoli che dovranno ancora essere scritti non li posso scrivere io però sono tutti punti passaggi secondo me cruciali per capire che cosa è accaduto dove dove si è sbagliato dove le decisioni prese non erano state previste fino in fondo e dove adesso si deve riprendere perché in realtà adesso siamo di fronte al crollo del capitalismo di fatto di fatto tutta quella vittoria che ha attinto l'ultimo cioè gli ultimi cento anni la grande vittoria del capitalismo si sta rivelando una vittoria incapace di reggersi perché quello che è venuto fuori io finisco con questo noi lo chiamiamo capitalismo non è più capitalismo quello che noi stiamo osservando adesso è un'altra cosa è il passaggio da Marx che era merce denaro merce è finito adesso noi viviamo nella società dove il denaro produce denaro cioè denaro 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 e infatti l'intera massa monetaria in questo momento circolante del pianeta è cento volte superiore alla massa di prodotti che viene fatta cioè noi abbiamo un'immensa massa monetaria che è stata creata dal nulla e che domina però tutto il sistema non è più il luogo dove c'è la lotta non è più dentro il sistema produttivo è dentro il sistema bancario e questo non so se si può chiamare capitalismo è un'altra cosa che funziona in un altro modo e infatti sta investendo io la vedo così l'interpretazione questo nuovo sistema economico che ancora non abbiamo ben capito come si controlla e non lo possiamo controllare sta demolendo gli stati noi abbiamo tutto questo si sta precipitando tutta questa immensa massa monetaria si sta precipitando sui singoli stati li sta demolendo perché alcuni dei protagonisti di questa operazione sono molto più potenti degli stati ci sono strutture già oggi industriali che sono più potenti dello stato italiano o anche dello stato tedesco anche dello stato francese non parliamo degli altri più piccoli questa gente ha un potere che può far cadere qualunque governo che può comprare qualunque esercito che può costruire un esercito da un mese all'altro perché hanno capitali che noi non sappiamo dove sono ma li possono mettere in funzione quando vogliono l'ISIS per esempio abbiamo vissuto tre anni con il timore del terrorismo il terrorismo islamico non è vero niente l'ISIS l'hanno costruito loro i capitalisti o meglio i servizi segreti degli stati capitalisti capite cosa vuol dire quindi tutto questo va naturalmente rivisto e ricollocato nella storia e noi riusciremo a difenderci solamente se capiremo come funziona questo meccanismo ancora non l'abbiamo capito altre domande? non ha valuta la divisione della Germania e ha valuta che Germania rimane fuori ogni blocco dividere Germania hanno valuto alleate come mai lui essendo vincitori non ha insistito poi secondo la domanda quando è stata presa la decisione di abbattere Muro e unire Germania in quel momento magari lei sa siccome lui è grande amico di Michael Garbaciov non hanno preso la decisione anche che è che è che era che era ministro degli esteri di nuovo obbligare di essere che Germania rimane fuori ogni blocco magari sa che qualche spiegazione perché in quel momento potevano obbligare Germania è grandissimo sbaglio uno perdonabile non magari le sa spiegare come mai io ho parlato di queste cose personalmente con Garbaciov più di una volta più di una volta mi sono fatto grazie mi sono fatto l'idea che Garbaciov era un uomo onesto differentemente da quello che pensano molti in Russia ma anche lui aveva dei limiti di comprensione dello stato delle cose e dei rapporti di forza lui credette che si poteva mettersi d'accordo con l'occidente ci ha creduto ci ha creduto io lo so che lui ci ha creduto pensava che i suoi interlocutori Cole Gensher Reagan ma di Reagan lui aveva una buona opinione perché c'era stato i colloqui di Helsinki perché di Helsinki sì di Helsinki e poi c'era soprattutto dopo Reykjavik dove lui era riuscito a convincerlo quindi sulla questione di armamenti da questo punto di vista Gorbaciov aveva avuto un buon risultato era cominciato un processo di disarmo molto importante però Gorbaciov era il figlio dell'apparato del partito veniva da Stavropol lui la sua idea del mondo era quella che era nata nel partito all'interno del partito comunista dell'Unione Sovietica lui non aveva nessuna idea di che cosa fosse l'economia capitalista non aveva nessuna idea e intorno a lui c'era un gruppo di Gorbaciov non sapeva come funzionava una carta di credito e lo dico io perché l'ho visto quando è venuto una volta a Torino che lui non sapeva maneggiare la carta non sapeva che cos'era la carta di credito non sapeva che cos'era il denaro ma non era mica l'unico era tutti i membri del politburo non sapevano che cos'era il denaro perché in Russia lei lo sa meglio di me il denaro non era la stessa cosa che in occidente eh bagnata cosa dico c'erano le conoscenze che valevano più del denaro quindi come si fa a spiegare una cosa era un'altra società quindi quadri politici che guidarono il partito comunista sovietico nella perestroica erano privi di esperienza dell'occidente e in qualche misura loro stessi credevano che l'occidente fosse più efficace lo so ci ho parlato tante volte quindi è certo che ci fa un po' ridere a noi io quando parlavo con loro gli dicevo guardate che questa storia dell'impero del bene e dell'impero del male non è buona l'occidente non è l'impero del bene ma io parlavo con i comunisti sovietici alcuni dei quali erano dirigenti del partito i quali erano convinti che in occidente comunque si viveva meglio dal punto di vista del mercato che loro vedevano attraverso le televisioni occidentali c'erano delle bellissime macchine c'erano i consumi sembrava tutto perfetto milioni di russi hanno creduto che l'occidente fosse il Bengodi parliamoci chiaro e quindi la vittoria del capitalismo è avvenuta nelle teste dei russi prima ancora che nella realtà e il muro di Berlino è caduto quando milioni e milioni di russi e di abitanti dei paesi dell'est Europa hanno pensato che l'occidente era meglio guarda che fantastica vittoria questo è quello che è accaduto quindi io rispondo così bisogna sapere con chi si aveva che fare e gran parte di questi dirigenti potrei raccontare io un giorno dicevo prima Enrico che vorrei raccontare un po' la mia Russia ma non facendo la storia della cronologia dei fatti che non me ne frega niente bisognerebbe raccontare quello che io ho vissuto e ho visto io ho parlato ero nella posizione ideale per parlare con un sacco di gente diversa io ero un comunista che però era eretico quindi il partito mi guardava con sospetto però io potevo parlare con un sacco il partito là mi guardava con sospetto perché ero un comunista anomalo e nello stesso tempo mi parlavano perché ero un comunista quindi ho avuto un dialogo con moltissimi di loro perfino con i dirigenti quindi so la loro psicologia e vorrei raccontare la Russia attraverso il loro dramma diciamo così il loro compreso quello di Gorbaciov che è rimasto un mio amico perché io penso che sia stato un dirigente onesto è uscito dal potere se volete un esempio senza una lira è uscito povero non ha rubato niente quindi aveva le sue convinzioni tra l'altro l'accusa che viene mossa a Gorbaciov di aver distrutto l'Unione Sovietica è una bestemmia contro la verità Gorbaciov non ha distrutto niente Gorbaciov ha ereditato un paese dove il partito dominante era già in ginocchio neanche il partito era più capace era già un corpo e io l'ho scritto perché lo vedevo l'ho scritto per l'unità attirandomi le ire di molti comunisti italiani perché mi dicevano che io ero amico del nemico perché raccontavo quello che vedevo in Unione Sovietica io l'ho vista come era era come un corpo senza scheletro un corpo senza scheletro va per terra è lo scheletro che regge in piedi il partito comunista era lo scheletro della società se toglie lo scheletro crolla tutto e infatti tolto lo scheletro è crollato tutto sì ripetutamente quindi è chiaro che la questione era complicata perché lo scontro avveniva tra potenze diseguali l'Occidente aveva il dominio della comunicazione in testa ai russi negli anni 80 81 82 83 c'era ancora il partito comunista fino al 91 quando è crollato tutto bene in quegli anni la testa dei russi era piena delle idee dell'Occidente e quando ci fu il famoso ammainamento della bandiera la sera di Natale del 1991 dopo che Gorbaciov andò in televisione e disse io non voglio la fine dell'Unione Sovietica perché questo bisogna dirlo Gorbaciov si è dimesso quando si è trovato di fronte a una coalizione guidata da Boris Nicolaevich Yeltsin che era un agente degli americani un agente degli americani quando Yeltsin prese il potere lui disse io mi dimetto perché non sono d'accordo con quello che state facendo quindi resta agli atti e si dimise se ne andò e il giorno dopo non era più nessuno e infatti per 15 anni Gorbaciov è sparito dalla vita politica russa sparito ancellato non più la televisione ha parlato di lui tutte le televisioni erano pro Yeltsin e pro America pro Yeltsin e pro America la Russia fu colonizzata in quel momento ci ha voluto 10 anni perché Yeltsin se ne andasse e per caso come dire eterogenesi dei fini apparisse un uomo come Putin che invece ha detto no io non accetto che la Russia sia fatta a pezzi io adesso voglio ripristinare la catena di comando e l'ha fatto e l'ha fatto tanto di capello per la questione per la qualcosa io lo considero un grande dirigente politico della Russia per la questione proprio per questo perché ha saputo ricostruire la catena di comando senza comunismo un'altra cosa quindi rispondendo alle sue considerazioni bisogna ritornare a guardare la storia com'è la storia è un sistema di rapporti di forza e i dirigenti possono fare molto ma oltre un certo limite non possono che obbedire ai dettati della storia che sono i dettati delle forze in campo Corbaciov ha perduto perché era più debole e non poteva vincere molto semplice il partito già non esisteva dicevo quando quando ammainano la bandiera se volete una prova vivente l'ho raccontato in una corrispondenza per la stampa perché in quel momento già scrivevo per la stampa che andai sulla piazza rossa quella sera io sapevo che Corbaciov andava in televisione subito dopo la televisione presi la macchina nevicava me lo ricordo ancora adesso andai sulla piazza rossa non c'era nessuno eravamo in due la piazza rossa era deserta completamente c'erano i militari che presidiavano il mausoleo di Lenin due persone due ma sul serio due su quale immensa piazza eravamo io e un giornalista olandese non c'era nessuno non ci fu un russo che si sollevò nel momento in cui la bandiera rossa scendeva dal pennone veniva innalzata la bandiera di Helsing inventata da lui tricolore mezzazarista quindi vuol dire che l'anima era stata perduta in quel momento la Russia si consegnava nelle mani dell'occidente e per dieci anni è rimasta consegnata nelle mani dell'occidente poi risorta per le questioni che dicevamo prima dello spirito che non lo puoi cancellare perché rimane rimane sottofondo per un po' di tempo per risorgere quindi questo è quello che io penso è difficile ricostruire tutto questo perché dobbiamo fare uno sforzo per uscire dalla nostra mentalità in qualche misura poi noi siamo provinciali continuiamo a pensare di essere il centro dell'universo invece non siamo più affatto il centro dell'universo siamo diventati una periferia e quindi non capiamo dove si prendono le grandi decisioni le grandi decisioni si prendono là dove si è potenti in questo momento i posti dove si prendono le decisioni sono tre o quattro non sono più quelli di prima non è certamente Roma non è neanche Berlino non è neanche Parigi le decisioni si prendono a Pechino si prendono a Nuova Delhi si prendono ovviamente a Washington e lì i punti del comando si prendono a Teheran per esempio cosa che noi ci dimentichiamo come se non ci fossero grandi popoli che noi non vediamo mai salvo per dire che sono cattivi anche loro che sono antidemocratici eccetera eccetera ci vuole anche questo una grande pazienza una grande intelligenza umana morale politica ci sono altre domande? scusa spettiamo il incremento prima tanto io parlo forte non ah sì stiamo registrando sì stavo dicendo lei ha parlato prima appunto prima della guerra dove c'era la povertà quindi i popoli in qualche modo erano l'ostaggio un po' della chiesa un po' di chi era contro la chiesa e si era creato comunque un senso di appartenenza cioè ognuno magari poteva appartenere no? o a destra diciamo o a sinistra valutando la chiesa no? piuttosto che gli operai questo senso di appartenenza che era dovuto al fatto che la gente non era sufficientemente colta no? portava poi la popolazione a vivere questo senso di appartenenza e quindi io sono comunque in contrapposizione e quindi mi facevo carico di una mia ideologia che non era mia ma inculcata da qualcuno o da qualcosa e questo permetteva comunque di avere un po' il mondo un po' sopito cioè io sono rosso tu sei nero tu sei giallo tu sei bianco oggi questa cosa qui che non esiste più non ci sono più i punti di appartenenza e forse questo è la la parte più importante che ci porta a non avere così un punto di riferimento sono cambiati i punti di riferimento e quindi chiaramente siamo in questa condizione grazie sì lei parla di una cosa di cui si potrà parlare senza capire bene che cosa si vuol dire la società post ideologica il Movimento 5 Stelle di questo ha fatto la bandiera come se fosse possibile che c'è che ci sia una società senza ideologia ogni società ha la sua ideologia sempre l'ideologia è sempre quella dei dominatori Marx nella concezione di Marx la parola ideologia è equivalente alla parola falsa coscienza ogni società per giustificare il suo potere i gruppi dirigenti inventano una spiegazione di se stessi che lì come dire l'illegittima noi siamo democratici da noi c'è lo Stato di diritto lo Stato di diritto funziona benissimo e così via discorrendo così tutta la serie di istituzioni viene costruita sulla base di quella ideologia poi succedono le rivoluzioni i cambiamenti e allora un'ideologia viene sostituita da un'altra ideologia che corrisponde una nuova o classe oppure coalizione di forze sociali ma dire che una società è non ideologica non ha nessun senso perché adesso c'è un'ideologia è potentissima noi viviamo dentro un'ideologia che addirittura ha le caratteristiche che non ha mai avuto prima un'ideologia diventa il potere di un unico pensiero se tu esci da questo pensiero tu vieni naturalmente è immediatamente escluso dal dibattito politico questa è un'ideologia io per esempio e Enrica siamo due complottisti la parola complottista in qualunque discussione fateci caso in qualunque discussione ci sia in un qualunque talk show televisivo c'è sempre lo scemo non so definire direttamente che tira fuori la parola complottista perché complottista perché hai detto una cosa che non sta dentro i parametri riconosciuti come legali questa è la cosa no che altro si può dire questa è un'ideologia potentissima potentissima più potente delle precedenti perché erano pluraliste quelle precedenti adesso questa qui non è neanche più pluralista adesso è solo l'ideologia del potere reale che è quello dei padroni universali che non sono più quelli che voi vedete in Parlamento che non c'entrano niente quelli che voi vedete in Parlamento sono tutti delle marionette che sono lì a sviluppare un ruolo che non hanno deciso loro quindi tutto il discorso dello Stato di diritto non funziona più perché non c'è la partecipazione popolare in tutto questo e quindi che vuol dire la divisione dei comini però qui faccio una breve osservazione importante perché se no mi smentisco dopo due minuti ieri noi abbiamo assistito a una importante decisione non so chi di voi l'ha notata perché non è stata notata molto cioè i media non l'hanno molto commentata è entrato nel Consiglio Superiore della Magistratura Nino Di Matteo una grande cosa Nino Di Matteo qualche anno fa è stato sottoposto a indagine dal Consiglio Superiore della Magistratura perché aveva osato dire che tra la mafia e lo Stato c'era un accordo l'hanno sottoposto a inchiesta non hanno potuto fregarlo lui è riuscito a divincolarsi oggi il Consiglio Superiore della Magistratura elegge elegge hanno partecipato migliaia di magistrati elegge nel Consiglio Superiore cioè organo massimo un uomo onesto che ha combattuto la mafia questo che cosa perché lo dico perché l'epoca in cui viviamo è un'epoca di transizione resistono ancora alcuni nuclei alcuni settori della società italiana che sono in grado di difendersi cioè che hanno mantenuto la loro autonomia quindi la battaglia non è ancora vinta da parte dell'avversario stanno cercando di schiacciare di eliminare di cancellare di chiudere i siti internet di fare tutta una serie di cose che sono in corso e lo faranno ma nello stesso tempo c'è una forte reazione che rimane viva questa è una notizia che per cui per questo che lo ricordo l'episodio di Di Matteo è interessante non per Di Matteo che io stimo molto personalmente ma non c'entra è che io vedo in questo un nucleo di resistenza lì c'è un gruppo potente che esercita potente perché è numeroso che esercita ancora la sua professione in omaggio alle regole democratiche questo dice che c'è uno spazio di movimento per cui non potranno proprio schiacciarci noi potremmo trovare i modi per difenderci ma la sua domanda è importante capirlo perché l'ideologia c'è e viene sostituita ogni volta che cambia il sistema politico e noi siamo in un cambiamento del sistema politico perché se ci pensate in questi due anni noi abbiamo assistito a un grande scontro che si può definire come lo scontro tra il populismo e il sovranismo contro le classi dominanti questo scontro c'è stato l'elezione del 4 marzo dell'anno scorso è stata un grande scontro senza guida potremmo dire così cioè il popolo si è espresso manifestando il suo disprezzo per la classe dominante però questo è sempre il senso di appartenenza di una volta non c'è più non c'è più infatti quello che lei ha detto quello che stavo esattamente per dire c'è stata una reazione popolare però indistinta senza un programma senza era un insieme di desideri e di critiche di ostilità e infatti questo eh si in qualche misura ci sono riusciti ma quello che voglio dire è che alla fine se guardi il risultato finale metti insieme i voti della Lega e i voti del Movimento 5 Stelle erano la maggioranza tant'è vero che la classe dominante è stata sconfitta per un anno si sono agitati scompostamente come le mosche che sbattevano contro il muro hanno inventato di tutto possibile però erano terrorizzati poi sono riusciti a riconquistare il terreno e hanno fatto questo governo però non è che sia una cosa non è ancora mica finita siamo dentro una rivoluzione politica che è ancora in atto è ancora tutta da vedere che cosa manca per una vera e propria rivolta manca un gruppo dirigente manca una una classe politica intellettuale che abbia delle caratteristiche morali alte non dici poco però non è poco non è poco no è moltissimo no però io lo faccio perché mi pare che si possa citare Gramsci Gramsci quando era in galera e stava per morire e scrisse i quaderni dal carcere e scrisse una cosa cruciale disse allora l'Italia ha bisogno di una riforma intellettuale e morale guarda che cosa ero un marxista però parlava di riforma intellettuale e morale io credo che noi siamo più o meno in questa situazione eh come? ci siamo ai mossi eh sì però però insomma la crisi si muove noi non ci siamo mossi ma la crisi va avanti ad alta velocità e questa è l'altra questione che è aperta perché tutto quello che stiamo parlando qui avviene anche a prescindere da quello che noi siamo capaci di decidere c'è una cosa che si muove per conto suo ormai e che si chiama tecnologia la tecnologia ha mutato i tempi della crisi e la tecnologia sta investendo tutti i caposaldi della struttura produttiva dei rapporti tra gli uomini del loro cervello della loro informazione e questa è una cosa completamente nuova per cui il problema sarà di capire dove va la tecnologia e vedere se riusciamo a prenderci in una parte sotto il controllo nostro questo è il punto allora dire un'ultima domanda e poi magari passiamo a un commento sull'Ucraina Gate Russia Gate se mi fate delle domande volentieri volevo fare un ultimo commento nel senso che non so come esco da questa interessante conferenza in alcune cose mi ha aiutato a ampliare un pochino il modo di pensare in altri momenti mi sento abbastanza impotente ormai c'è la comunicazione praticamente è l'arma principale per modificare i pensieri delle persone non è una cosa nuova io mi ricordo che parlando di Hollywood va alla guerra ci sono stati molti film già che menzionavano come il destino dell'umanità dipendeva dall'America dall'America dagli Stati Uniti infatti noi diciamo vado in America vuol dire vado negli Stati Uniti ha trovato l'America vuol dire che vado ho trovato la via buona per fare i soldi per fare una posizione economica mi ricordo da ragazzo che uno dei film di propaganda più conosciuti era di Walt Disney Saludos Amigos per esempio dare questa immagine degli Stati Uniti come veramente il benessere per tutti adesso la situazione la vedo difficilmente invertibile forse i tempi erano in altri momenti adesso vedo che ci stiamo combattendo contro delle cose che non capiamo in profondità c'è la controinformazione di cui siete grandi esponenti ma viene considerata quasi un complotto complottismo è una cosa quasi da delinquenziale da reprimere però la vita voi me lo state dicendo la vita è difficile in questo senso però il mondo vi risponde con l'indifferenza cioè le masse non si muovono sì interessante ma finisce lì io in un altro campo vedo con gli amici con le conoscenze c'è un gruppo di conoscenze abbastanza ampio e anche ampio come retrocranio intellettuale chiamiamolo così però la risposta finale è che in infinitiva cosa ci posso fare io non so la domanda finale è questa che fare che fare vedo che è veramente sto trovando veramente parlando con gli amici alle volte parlando di piattaforme scherzosamente io direi io vorrei fare una piattaforma Robespierre ma veramente sono così tanto per parlare tanto per parlare non di più però il dubbio di dire che fare cosa fare cosa muoverci sembra veramente di una grossa difficoltà segna una grande impotenza di riuscire veramente a catturare l'attenzione di persone anche colte non persone che non hanno la capacità intellettuale di decodificare certi messaggi e quindi rimane un po' impotente anche perché impotente perché poi in definitiva quello che si vuole condurre o che vogliono condurre le masse è comunque distrarli le distrazioni di massa con il nemico più vicino adesso il nemico più vicino sono gli emigranti e quindi la gente è distratta lì pensano che con questo problema che è un grosso problema risolverebbe se risolto risolverebbe tutti i problemi invece assolutamente no quindi rimango un po' impotente di fronte a quello che succederà in tempi brevi nell'ampico di qualche anno credo non credo di più grazie grazie la domanda è che fare difficilissima io l'ho già sfiorata due o tre volte faccio un esempio per capire che sta succedendo noi adesso stiamo affrontando un salto ah scusate stiamo affrontando un salto tecnologico che di cui ancora non si sa nulla perché ho pochissimo quel poco che emerge emerge già in modo ingannevole il 5G non so quanti voi hanno sentito parlare del 5G ho sentito parlare ma ne parlano tutti benissimo no no sul blog Revoluzione ne parliamo malissimo perché siamo dei complottisti non potevamo non parlare male del 5G ovviamente occhio eh anch'io ne parlo malissimo ma sto dicendo la grande massa della gente sono riduce da due o tre conferenze una l'ho fatta nella cittadina di Farnese vicino a Roma e poi potete immaginare un posto di duemila abitanti nessuno sapeva niente quel poco che sapeva era era che sarà un grande progresso un grande meraviglioso progresso bene io invece penso che sia uno dei più gravi eventi degli ultimi decenni e credo che influenzerà in modo drammatico la nostra vita perché noi da quel momento in avanti quando si comincerà a sperimentare si comincia già a sperimentare su di noi in 105 comuni d'Italia in cui ci sono questo è uno di questi dove ci siete voi si comincerà a sperimentare su un milione di persone le cavie sarebbero trasformati come cavie su sottoposte a una minaccia che riguarda la nostra esistenza umana questo non lo sa nessuno o pochissimi però così è questa è una minaccia all'esistenza umana anzi dico di più è una minaccia alla vita perché minaccia noi minaccia gli animali minaccia le piante tutto ciò che è vivente costruito dall'uomo senza nessuna responsabilità e il nostro governo ieri ha votato a maggioranza che si deve andare avanti quindi siamo in una situazione di grande pericolo allora cosa dico io a proposito di applicazione del sistema difesa del nostro territorio una cosa da fare è mobilitarsi subito su questo tema specificamente si deve cominciare così bisogna cominciare a costituire dappertutto dei comitati cittadini che chiedono giustizia chiedono che la decisione venga verificata chiedono che il consiglio comunale di Torino si riunisca per discutere specificamente su questo bisogna fare la lotta e bisogna farla subito senza perdere tempo perché se noi riusciremo a fare in modo che 10 20 e 30 comuni d'Italia sottoposti a questo esperimento si rifiutano e quando dico si rifiutano lo impediscono perché bisogna impedire di mettere queste antenne e bisognerà dire che i nostri figli non devono comprare il nuovo iPhone perché il nuovo iPhone che uscirà nel 2020 sarà già costruito come una antenna multipla che emette e riceve onde ad altissima frequenza cioè a bassissima lunghezza che penetrano dentro il nostro DNA e modificano i comportamenti delle cellule umane questo è il punto che non viene detto perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità già su sa tutto questo ha già la documentazione ci sono almeno 10.000 studi verificati di riviste di qualità scientifica inoppugnabile che dimostrano che questo 5G modificherà la vita degli esseri viventi tutti e noi non sappiamo come allora la risposta al che fare si fa così bisogna cominciare così perché se tu pensi di combattere contro la Goldman Sachs non li troverai mai non sai dove sono sono dappertutto quindi la mia risposta è questa bisogna cominciare a inventare le lotte dovunque si capisce la minaccia e la minaccia la devi percepire tu qui perché se tu parli con una mamma e gli dici che suo figlio sarà bombardato e lei stessa e soprattutto una donna incinta sarà bombardata lei e il suo feto dall'inizio dal momento in cui comincia a vivere e sarà bombardata in modo che non si potrà difendere perché quando ci sarà il 5G dappertutto nel mondo noi dovremo sapere che non solo ci saranno le antennine messe a 100 metri di distanza l'una dall'altra vicino alle vostre case sui lampioni delle case sui sui insegni dei negozi dovunque sulle macchine addirittura le metteranno sulle ruote delle macchine quando sarà tutto questo dobbiamo sapere che avremo il ritracciamento da sopra perché si prevede di lanciare per il 5G 20.000 satelliti solo per il 5G americano di Elon Musk è già stata data l'autorizzazione a far partire 20.000 satelliti che copriranno tutta la superficie del mondo compresi i mari le foreste le montagne e quindi tu non avrai modo di difenderti perché se sei vicino all'antenna sarai colpito dai raggi di questa di questa dai raggi dalle emissioni elettromagnetiche ad altissima frequenza e se sei in un posto sperduto nel mondo ce la vai dall'alto e quindi sarai bombardato comunque quindi non ci possiamo salvare quindi questo lo fanno perché vogliono la connessione globale cioè loro ci stanno già dicendo che da quel momento quando comincia finisce internet che è quello che usiamo adesso che è l'internet dei device cioè delle macchine ogni vostro telefonino ogni nostro telefonino è una macchina che trasmette e riceve onde elettromagnetiche questo è l'internet dei device quanti sono i device grosso modo te lo dico io sono circa un miliardo e mezzo il passaggio dal 4G al 5G significa che i device diventeranno cento miliardi di miliardi di miliardi di miliardi credo di finire sono credo che sia dieci alla dodici il numero dei miliardi di device diventerà tanto quanto gli uomini che sono sulla terra per esempio molti di più e cioè vorrà dire che io sarò collegato permanentemente con il mio frigorifero con il motore della mia macchina sarà l'internet delle cose e in più io personalmente con il mio corpo sarò un device anzi sarò mille device perché ce li possono mettere dentro ormai il discorso del chip del chip sottocutaneo è archeologia non ci sarà più bisogno di nessun chip sottocutaneo ce lo metteranno nel sangue con le trasfusioni del sangue ce lo faranno mangiare ce lo faranno respirare ce lo faranno respirare perché oramai siamo arrivati al punto che questa robetta questi ricetrasmettitori scusate ricetrasmettitori sono delle dimensioni di una molecola un atomo vale 0,8 nanometri una di queste di queste antennine del nuovo iphone della apple che uscirà nel 2020 una di queste antennine è in grado di emettere onde della lunghezza di 5 6 nanometri cioè di una molecola e quindi sarà facilissimo metterti nel corpo nel cervello dovunque circa la sangue per esempio delle ricetrasmittenti perché questi sono delle ricetrasmittenti sono dei transistor che possono trasmettere una serie di comunicazioni quindi noi diventiamo non solo soggetti a un irraggiamento elettromagnetico che può compromettere i tessuti epiteliali delle nostre cellule che può compromettere il funzionamento del nostro cervello di tutte le molecole del nostro cervello ma noi saremo tutti sotto un controllo totale ecco perché lo fanno e te lo venderanno dicendo ah ma potremmo scaricare un film in una frazione di secondo avremo una potenza di comunicazione fantastica certo sì sì certo dopodiché però loro sapranno perfino quando tu batti le ciglia e incamereranno tutto perché incamerare tutto questo significa avere i metadati cioè ci venderanno e ci venderanno a piacimento su tutti i mercati perché sapranno in anticipo che cosa pensiamo statisticamente che cosa vogliamo che cosa desideriamo e che cosa non vogliamo e quindi loro decideranno come viviamo cioè questo non è più Orwell noi stiamo entrando ad alta velocità perché tutto quello che sto dicendo adesso non è che sarà il futuro vorrei che fosse chiaro che già stanno producendo questa roba queste antenne le stanno già facendo e questi telefonini li stanno già costruendo ci sono intere strutture produttive in Nord Corea in Cina in Giappone quasi niente in Europa negli Stati Uniti che stanno già modificando i sistemi di produzione di tutto il sistema della comunicazione in funzione delle alte frequenze e delle basse lunghezze d'onda questo sta già avvenendo è già cosa di corso quindi tutto questo sviluppo o lo fermiamo adesso o dopo ci troveremo in uno stato umano che non ha più nulla di umano questo è il punto si sta costruendo una società disumana perché siamo in chiusura abbiamo già sforato parecchio ti farei una domanda su quello che sta accadendo il possibile impeachment Trump l'Ukrainagate se riesce a essere sintetico così li lasciamo andare a dormire con meno incubi rispetto al 5G ma ci spostiamo verso gli Stati Uniti una cosa la prima cosa che mi viene da dire è che le cose che noi complottisti stiamo dicendo da un po' di anni adesso le dice il Presidente degli Stati Uniti ieri il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato patente patente che la politica estera americana degli ultimi decenni è stata una follia non dovevamo andare in Medio Oriente siamo matti abbiamo buttato via 8 trilioni di dollari abbiamo fatto morire 50.000 americani ha detto lui mica dico io cioè ma spiego perché perché questa è la risposta alla tua domanda noi continuiamo a pensare che c'è un'America c'è un'Europa c'è una Cina c'è una Russia non va più bene il tuo schema semplicemente perché non c'è più un'America l'America è il terreno di una lotta politica enorme per la vita e per la morte si sta decidendo se Trump potrà essere impecciato o no se Trump va al secondo mandato ma non è una questione di Trump Trump rappresenta un pezzo di America che sta combattendo contro un'altra America cioè l'America è divisa in due fazioni almeno due o tre fazioni che stanno decidendo il loro futuro anche personale perché molti di questi possono da un momento all'altro finire sotto processo ricordate quello che si è suicidato da poco Epstein suicidato si è suicidato con il lenzuolo di carta doveva essere sotto sorveglianza la parola giusta è stato suicidato e perché è stato suicidato perché lui sapeva un sacco di questa roba qua ed era uno strumento di ricatto in questo caso nelle mani di Trump contro gli altri contro il Deep State quindi l'hanno ammazzato quando dico questo perché sia chiaro che non stanno scherzando non è che si stanno divertendo a fare delle dispute politiche adesso l'altro giorno abbiamo avuto due visite in rapida successione del ministro della giustizia americano che viene e parla con i nostri servizi segreti perché noi siamo stati implicati nell'operazione del Russia Gate noi abbiamo preso parte con i nostri servizi segreti pensa come sono democratici a tutta l'operazione che serviva per far cadere Trump però i complotti non esistono i complotti non esistono naturalmente però adesso però adesso qualcosa verrà fuori perché Trump per difendersi dovrà dire delle altre cose io così penso io così penso siccome la cosa la minaccia è seria lui si sta difendendo e questo è legato a tutte le operazioni che stanno avvenendo in Medio Oriente perché lui non vuole la guerra questo lo dico con certezza lui Trump non vuole la guerra con l'Iran ma deve giocare con diversi come dire interlocutori perché Israele che lo ha finanziato vuole la guerra dentro la sua amministrazione c'è un gruppo di uomini che vogliono la guerra un altro gruppo di uomini che non vogliono la guerra lui quindi si sta barcaminando e quando noi vediamo che sembra che lui si comporti come un matto non è che è matto è che sta cercando gli alleati volta per volta ne cerca uno e quindi cerca di parare il colpo perché gli altri sono in azione guardate quello che è successo con il bombardamento delle raffinerie in Arabia Saudita non si sa chi ha fatto questo bombardamento ma è chiaro che sono i servizi segreti israeliani o americani prima di tutto bene questi fanno una provocazione il presidente degli Stati Uniti è costretto a convocare il consiglio di sicurezza dove si discute se farà l'attacco contro l'Iran niente può di meno che e dice lui non sa che fare si capisce che non sa che fare divertentissimo da questo punto di vista è divertente è ghiacciante ma divertente non sa che fare allora riunisce il consiglio di sicurezza e dice ma se noi attacchiamo l'Iran questo è vero è tutto documentato ma se noi attacchiamo l'Iran quanti morti faremo? si trattava di bombardare 4 o 5 impianti nucleari iraniani allora dice se bombardiamo con i 4 o 5 punti quanti morti ci saranno? si guarda intorno si rivolge al generale vicino e questo risponde beh 300 400 allora lui dice ah no allora non si può fare perché in fondo un drone abbattuto non c'è un morto e quindi noi risponderemo con 500 morti a un drone senza uomo non va bene e non c'è stato l'attacco sulla base di questa conversazione inventata lì per lì perché lui evidentemente non sapeva come fare ha dovuto inventarsi quanti morti ci saranno e poi è uscito fuori sui tweet perché lui twitta e tutto quindi voi capite in che situazione siamo quindi la risposta a quello che succede in Siria in questo momento chi è che agisce in Siria? Erdogan cattivo contro i kurdi ma non è vero per niente è che Trump vuole venire via e qualcuno del suo entourage dove sia non lo sappiamo qualcuno dei servizi segreti del Mossad o della CIA o dell'FBI sta cercando di lavorare sul terreno per creargli delle situazioni di frizione stiamo parlando di questo ieri che cosa fanno? bombardano una petroliera iraniana oggi lo vedete cioè tutte queste chi sono? che è l'America non è l'America è una lotta politica che si trasforma in azioni tendenti a forzare a come dire a piegare il braccio di Trump che vuole un'altra cosa non sto dicendo che Trump è diventato pacifista semplicemente lui ha un'altra strategia lui ha capito che l'America così non ne viene fuori bene e quindi lui vuole un'America first ma come ha detto lui stesso in modo esplicito un'America che comincia a esportare beni merci servizi e che la smetta di esportare dollari questo ha detto e naturalmente tutto questo fa parte ma le armi sono già beni di consumo diciamo così invece lui dice voglio semplicemente dire che non immagino che Trump sia diventato un pacifista è semplicemente una lotta politica tra due idee del mondo e in qualche misura questa duplicità dell'America dice che anche l'America è in crisi cioè che qualcuno sta pensando possiamo andare avanti così e poi c'è un altro protagonista e qui finisco perché non voglio uscire dal tempo attenzione perché stiamo assistendo alla composizione di un nuovo grande protagonista mondiale e questo protagonista mondiale è nemico di Trump ed è anche nemico io credo il nostro più pericoloso la notizia che io ho dato tra i primi che Google Facebook la banca di Inghilterra Rothschild nomino cose che so con precisione e una parte di Wall Street stanno passando all'offensiva e vogliono creare prima che arrivi il 5G il nuovo internet parallelo e concorrente a quello americano a quello americano sta avvenendo una grande gigantesca operazione e hanno già chiesto il permesso per piazzare un nuovo cavo sottomarino di 13 mila chilometri che collegherà la costa occidentale cioè Silicon Valley direttamente con Hong Kong quindi sta avvenendo un grande cambio dentro il sistema occidentale bisogna vedere chi vince perché quando io sento il presidente della banca d'Inghilterra niente po' di meno che il presidente della banca d'Inghilterra che dice pubblicamente che il dollaro non è più in grado di reggere il mercato mondiale anzi che il dollaro sta ingessando il mercato mondiale usato questo termine e che bisogna pensare ormai a una nuova moneta mondiale che sia rispettosa dei reali rapporti di forza mondiali e cioè in cui il Renminbi cioè lo yuan cinese giochi un ruolo fondamentale questo viene non dai cinesi non è Xi Jinping che ha detto voglio voglio no queste sono le banche occidentali che stanno dicendo che il dollaro non regge più e che va sostituito da un'altra cosa quanto tempo ci vorrà non lo so però lo scontro è molteplice e multilaterale quindi noi dobbiamo capire che questa crisi andrà avanti a termini molto forti molto veloci molto drammatici può succedere di tutto ma questo è il quadro reale quindi quando pensiamo all'America non pensiamo più all'America c'è una Cina che è una Cina già la Russia la Russia dentro la Russia ci sono molte correnti non univoca la Russia non è Putin soltanto ci sono molti amici dell'Occidente e sono amici sia di Trump che della banca di Inghilterra e di Rothschild tutte e due le cose quindi bisogna vedere come si sviluppa la situazione il nostro compito mio e di Enrica è di darvi l'informazione che nessuno vi darà perché tutto questo scontro che è già visibile è già visibile cioè io sto dicendo cose che ho già letto e che ho già scritto non è che sono sconosciute non è che io ho inventato qualcosa sono lì scritte mi arrivano sul computer tutti i giorni c'è uno scontro ma di cui nessuno parla non ne parla Repubblica quasi non ne parla la stampa non ne parla Corriere silenzio come se non ci fosse sono tutti terrorizzati di raccontare queste cose perché non sanno che cosa sta succedendo quindi se mi permettete in questo io mi sto divertendo moltissimo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti